1 dicembre 2015, parto per una 100 km in solitaria a Dubai, unico obiettivo, portarla a termine. A distanza di tre anni, i chilometri sono 140. Perché lo bacio? Per dimostrare che un uomo può raggiungere qualsiasi obiettivo. Per dimostrare che un uomo può raggiungere qualsiasi obiettivo. Credo che sia marinato, fatto marinare per me un giorno, un giorno in questa salsa con il pomodoro, l'aglio. Fondamentalmente io sono molto più serena rispetto a due anni fa, anche perché so che Nico è seguito da diversi professionisti, quindi non solo alimentare ma anche sportivi e medici, quindi sono molto più tranquilla. Poi, se vogliamo anche dire che sono più contenta, finalmente non trovo più peli nel lavandino. A presto!